e ciao a tutti ragazzi è buono in questo nuovissimo video oggi siamo qui vi faccio vedere questo nuovo recupero che ho fatto in blu ray e sto parlando di star wars la saga completa tutta la saga di star wars in edizione blu ray disc in questo bellissimo cofanetto ecco qua il laterale star wars la saga completa fantastico qui abbiamo il retro la forza in blu ray vivi ogni istante contiene nuovi dischi contenuti speciali quelli qua tutti gli episodi di star wars andiamo a vedere il cofanetto bellissimo si apre in questo modo fantastico qui questa immagine la saga completa eccoli qua star wars guida alla galassia qui c'è un libricino con tutti i cast e i film star wars episodio 1 star wars episodio 2 episodio 3 bellissimo tutto questo sfondo blu a tema spazio episodio 4 episodio 5 episodio 6 episodio 7 no questo è disc 1 bonus disc archivio episodio 1 3 altro bonus disc fantastico edizione di questo cofanetto di star wars bellissimo ragazzi e niente ragazzi mettete vi piace commentate iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti belli ciao a tutti